Sulla questione AstraZeneca e sul suo utilizzo interviene il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. È urgente che il governo chiarisca ad ORAS la utilizzabilità del vaccino AstraZeneca. Il disastro comunicativo e le decisioni di altri paesi stanno determinando una situazione di crollo nelle somministrazioni di tale vaccino. Invitiamo il governo a decidere subito sulla utilizzabilità di AstraZeneca per evitare blocchi drammatici nelle somministrazioni. Questa situazione rende ancora più urgente, continua De Luca, un pronunciamento dell'autorità di controllo AIFA sul vaccino Sputnik. È interesse dell'Italia non perdere un minuto di tempo. Ogni giorno perduto nella valutazione di questo vaccino è un atto di irresponsabilità verso il paese. Si chiareisce inoltre che da oggi non è più in vigore l'ordinanza in tema di attività mercatali, parchi lungomare. Pertanto restano in vigore le disposizioni dell'ultimo decreto del governo in relazione alla zona russa.